Siamo un'azienda che c'è da una quindicina di anni e più che altro lavoriamo nell'ambiente live, teatrale, lavori in esterna, palazzetti, però da diversi anni stiamo anche lavorando abbastanza sull'installazione, in teatri, auditorium, chiese talvolta, quindi ci siamo avvicinati a diverse marche tra cui Yamaka ed è per quello che oggi abbiamo accettato di buon grado questo invito che ci è arrivato da connessioni che peraltro conoscevamo da lungo tempo. Quindi ci ha fatto doppiamente piacere. Abbiamo scoperto dei prodotti molto buoni ma sicuramente ce lo aspettavamo come Yamaka di solito non ci fa sorprese. Abbiamo visto diverse cose interessanti, infatti nelle prossime proposte lo potremo anche proporre ai nostri clienti nello specifico su quello che abbiamo visto oggi. Carina questa cosa che connessioni e faccio i complimenti alla redazione ha scelto di ospitare noi rocchettari insieme ad altri rocchettari che sono i motociclisti. Io non sono motociclisti ma mi piace l'oggetto e quindi siamo venuti in questa bellissima concessionaria Yamaka di San Mauro vicino a Torino. Bella quindi la location e bella anche l'abbinamento di questa cosa di unire il mondo dei motori e il mondo di noi fonici o amanti della musica e appunto in questo caso dell'installazione. Ringrazio connessioni, è una rivista che tra l'altro ringraziamo per il contributo che ha da diversi anni nel farci conoscere tutte le novità che qui in Italia non solo ci sono sotto l'aspetto tecnologico applicato al nostro lavoro e quindi apprezziamolo. Sono tante le realtà che conoscono a fondo il nostro mestiere che purtroppo spesso è un po' dimenticato anche da chi ha locali, da chi ha anche a volte teatri, cercano sempre di stare più attenti magari alla grafica, all'architettura, al colore e poi vai dentro e si sente male, si vede male. Quindi bene che ci sia un'attenzione sotto questo aspetto. Anche perché io ho fatto dirsi i lavori all'estero, quando noi usciamo appena mettiamo il piede fuori dal nostro confine vedo che noi italiani siamo considerati maestri in questo. Il problema è che qui in Italia gli italiani invece a volte non sanno bene come muoversi. Quindi connessioni secondo me sta facendo un ottimo lavoro in questo senso, divulgare le cose importanti.